sono le 4 e 25 di notte non so perché sto a fare questo video non lo so neanche io ho trovato questa spazzatura soldier warfire che non so neanche cosa a cazzo è io non so neanche che è grande parte a 600 mega di gioco capitolo 1 madonna vi siete impegnati questo non è io ho paura questo di screen è qualcosa di atroce ma vaffanculo che è genguru ti favo insieme al culo a cacare devo spostare un attimo la cam perché sta rompendo coglioni è caldo e da prima prima la devo un pochettino vabbè no la devo rispostare mortacci tua guarda resta qui e non mi rompere le noci si è genguru gold preparatore tra un asso ma cosa devo fare? no ah non puoi saltare interessante sembra un uovo belle le ombre caccia di spasmi no aspetta cioè con QE non è la ah con di questo invece boh vomit no vomitoni belli l'interno della macchina fatti benissimo allora dove devo andare? ti la vi dingo? mi spieghi cosa deve fare? io sono dentro un quadrato questo mio dio le ruote queste non sono ruote di un hammer queste sono ruote di un pandino bella la texture messa così eh bellissima proprio ok ho 500 di vita e va bene ma cosa devo fare? oltre a un arm che c'ha le ruote sgonfie se non posso saltare no 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 perché ritorna il gioco per l'amor di dio cioè questo è il gioco questo è il gioco se c'è gli spasmi ho capito ma non ci posso entrare madonna ma non siete neanche capaci di fare un tetto ma è intero c'è ma è intero c'è oh di chi sei vedo il mirino eh ok ho la pistola pistola è ma io non sto scusa eh se io premo ws ho questo perché sembro sembro io il coglione eh cosa totalmente randomita allora devo arrivare è ok il mio equipment l'ho preso la storia che ricarica ogni polpo però da punto carabinieri eh io l'equipment l'ho preso si va ma ma mi dici mi dici forse non dovevo ucciderla forse non dovevo forse madonna la text del tavolo dove l'hanno riciclata ma mamma mamma almeno fate un modello la penna proprio stirata no no non mi dici ehi non puoi mirare dov'è il crosser questo sto mirando a caso ah quel tasto destro va bene mi dir quello è giusto con le poche cose decenti dpi ai porci e chi mi ha fatto andare lì si riesce ad avanti su questo gioco o no ah e niente proprio palugniorri eh un cactus se un cactus lo metteremo mai in culo a quelli che hanno fatto sto gioco beh mi cominciamolo un attimo forse non dovevo accoppare quella lì ti dice eh giusto per punti per fare la polietà una cosa ok 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 arriva il rincoglionito il rincoglionito non fa nulla quindi devi andare qua va vabbè dalla finestra comunque entra ah piglia tutto in automatico entra questo non devi prenderlo e vieni con me ovviamente 15 colpi bella la text proprio un qualcosa di straordinario con la città un città ma già mi dimenticavo non può usci da lì oh mio dio dai no non può non può usci da lì perché questo sbrillucita ma io io qua devo cercare che devo fa qualcosa io ci sto provando tra almeno 20 minuti comunque questa non esce mi ha spuntato il messaggio da parte di questo rintronato so we were getting here about leaving cioè bisogna arrivare proprio a partire ok ma se te se quella lì non esce e queste le porte mi sa che questo gioco non è completabile non può essere completato a parte il palo dei beduli però ma mi chiedo ma perché commercializzi questo gioco meno male free to play e va a tirar le palle non si può fare niente io te t'accoppo per forza o poi usci che va o poi mazza pure te niente mi sa che finisce qua anche perché non può allora un gioco che a parte si è capito la mano della sega va bene non può essere completata è un gioco che non può essere completato ma dall'inizio cioè potrei potrei anche guardare i gameplay da qualche parte ma non credo che qualcuno stia giocando tutta l'immondizia questa è veramente un'immondizia niente ragazzi con questa bellissima pagina dell'amber direi che l'appuntamento di oggi finisce qua lasciatelo dove lasciatelo dove ci si vede con il prossimo episodio della cacere di steam alla prossima ciao